e allora quindi si parte ragazzi si parte per questo straordinario viaggio che ci porterà a conoscere molti monumenti e molte città dell'egitto classico con la motonave sprint user quindi sarà veramente un'occasione straordinaria per conoscere l'antico mondo egiziano buona visione a tutti da paolo orlando tele garage mare viaggio ciao ebrei come solito ci ritroviamo sempre comunque stasera c'è un avvenimento eccezionale un ballo di certi africani che oggi siamo andati a vedere i loro luoghi e voi sapete bene come sono fatti mi immagino il ballo ci faremo quattro risate abbiamo il signor niente poco di meno che pasquale di danno pasquale il signor pasquale che pronto a darci prova del suo coraggio nel sfogliarsi nudo vediamo con quale classico ma ragazzi stasera è incredibile incominciate a sentire già la musica tutti quanti guardate come squirtano fagni di viaggio io faccio la spia da dietro ma io sono più furbo di te comunque vediamo sempre pasquale pronta a sudare come è fatto e ci mettiamo un effetto fantasma vediamo l'effetto anzi non ti scatto una bella fotografia prima però un po' di effetto fa andare muoviti un po' muoviti un po' ma incredibile fa qualcosa di marone che ragazzo fulgico lo vediamo lo vediamo con altri effetti e inizio in due eh weh comunque rimaniamo con l'effetto allora dopo ritornati alla normalità ragazzi comunque per vedere queste videocassette dovremmo passare all'incirca 15.000 ore pari a due anni sul peggio comunque la serata mi sta saltando e fra poco vi farò vedere l'esito della situazione la frappella ritorniamo mi ero scordato di dirvi che stasera devo pagare il conto del bar e mi sa mi sa sono proprio cazzi non consumare la batteria non consumare la batteria stasera sono vestiti tutti di classe anche io guardiamo questi ragazzi macro mi è piaciuto questo fatto e poi non ci fa andare guardiamo questi ragazzi macro pari Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.